ciao a tutte ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato ai prodotti finiti ho tantissimi tantissimi prodotti di cui parlarvi oggi prima di cominciare voglio fare una piccola premessa ovvero che ho il ventilatore acceso perché non si respira oggi fa un caldo incredibile ho lasciato anche le finestre aperte nella speranza che magari giri un po d'aria per cui mi scuso se sentite qualche rumore di sottofondo spero che non vi dia troppo fastidio e visto che ho tantissimi prodotti di cui parlarvi oggi andrò un po più veloce rispetto al solito comunque vi farò una piccola review una piccola recensione di come mi sono trovata col prodotto però non mi dilungherò come faccio solitamente proprio perché ho tantissime cose di cui parlarvi partiamo subito con un prodotto della linea ultra dolce di garnier la maschera latte al cacao se mi seguite saprete che ho già provato diverse maschere di questa linea quella la mandorla è la mia preferita in assoluto questa invece l'ho trovata buona non male però mi aspettavo un po di più visto che è indicata per capelli ribelli crespi quindi dovrebbe andare a nutrire lisciare mi aspettavo un effetto un po più nutriente invece è condizionante lisciante ma non molto nutriente erano i capelli crespi ribelli oggi li vedete un po un po così wild perché li ho tenuti legati fino ad adesso e ho appena sciolti quindi hanno preso un po la piega della della molletta però normalmente non ho i capelli crespi o ribelli quindi quello che mi interessava che la maschera andasse a nutrire e si ha un effetto lisciante condizionante ma non è molto molto nutriente ecco quindi consigliata solo se avete i capelli non particolarmente bisognosi di nutrimento però la texture è molto sottile insomma è abbastanza liquida sembra più un balsamo che una maschera si tiene su 3 4 minuti poi si sciacqua e l'effetto comunque idratato ecco prossimo prodotto la mousse doccia di dove con olio di acai non male io uso spesso queste mousse mi piace tantissimo quello all'olio di argan e anche quella al cocco che sto utilizzando adesso che è buonissima questa dopo un po mi ha stufato la profumazione che è una profumazione dolce un po fruttata insomma dopo un po mi ha stancato l'ho terminata comunque perché il prodotto in sé è molto valido è una mousse molto densa che è perfetta per chi si depila in doccia o anche per chi vuole un detergente soffice ecco dal dalla consistenza spumosa ed è molto molto buona appunto la l'unica cosa è la fragranza che dopo un po mi ha stancata prossimo prodotto questo lavamani ad olgente di bottega verde per pelli normali o secche alle mandorle non male la profumazione buonissima sa proprio di mandorla veramente molto molto buona non è nulla di che insomma ci sono molti altri detergenti validi ecco è uno tra i tanti nulla di particolare poi acqua micellare tutto in uno di garnier skin active il maxi formato questa mi era stata inviata da garnier che ringrazio è un'ottima acqua micellare mi sono sempre trovata benissimo la utilizzo come secondo step di detersione dopo aver utilizzato un olio o un detergente burroso oleoso non brucia gli occhi non dà fastidio non mi ha mai fatto venire reazioni bollicine niente di tutto ciò e ve la consiglio soprattutto se appunto fate un trucco leggero non avete bisogno di fare chissà che struccaggio quindi non avete bisogno di prodotti bifasici eccetera vi basta l'acqua micellare questo prodotto è veramente ottimo soprattutto per il rapporto qualità quantità prezzo prossimo prodotto sempre prodotto capelli è uno shampoo ultra dolce shampoo purificante all'argilla dolce cedro di garnier a me questo shampoo piace tantissimo a parte il profumo che sa proprio di di agrumi sa di cedro tantissimo mi piace veramente molto lascia i capelli leggerissimi è una cosa pazzesca questo è uno shampoo purificante che non è eccessivamente aggressivo quindi va bene anche se avete la cute grassa e quindi andate a lavare i capelli spesso non vi consiglio di utilizzarlo a tutti i lavaggi perché probabilmente è un po troppo però io lo utilizzavo una volta la settimana nel lavaggio diciamo a metà settimana e mi sono sempre trovata benissimo appunto lascia i capelli molto leggeri molto voluminosi e ben ben puliti quindi se lo trovate tra l'altro costa pochissimo si trova spesso anche in offerta è senza siliconi ha il 100 per cento di plastica riciclata il flacone fatto con il 100 per cento di plastica riciclata insomma è un ottimo prodotto io ve lo consiglio il prossimo prodotto è un prodotto con per il quale sono andata in fissa sono innamorata della profumazione e l'ho già acquistato in più più versioni ed è il DAV deodorante talco la profumazione di questo deodorante è buonissima il DAV original mi piace ma non è la mia profumazione preferita ho ne ho provati diversi di questi deodoranti e dopo un po' quasi tutte le profumazioni mi stancavano o mi nauseavano come è successo con quello alla pera che non riesco più ad utilizzare perché mi dà mi dà molto fastidio questo invece è buonissimo sa proprio di bolo talco è molto buono la fragranza si sente però non è eccessiva quindi poi non interferisce con il profumo l'efficacia è ottima è un ottimo deodorante se vi piace la profumazione talcata questo ve lo consiglio caldamente prossimo prodotto questo è il balsamo dedicato ai capelli normali balsamo fortificante della linea fructis di garnier che è l'ex puliti e brillanti ha un profumo buonissimo che resiste tantissimo sui capelli li lascia belli leggeri voluminosi li districa bene io lo uso anche per fare co wash costa pochissimo si trova ovunque anche al supermercato e ve lo consiglio sempre questo è un prodotto che vedete spessissimo nei miei video poi ho terminato diversi sacchetti di dischetti struccanti oggi non mi vengono le parole allora ho utilizzato questi della cotonette sono quadrati sono molto vari di questi dischetti sono morbidi non graffiano non si sfaldano veramente molto molto buoni li compro sempre quando sono in offerta così come quelli della quando è riprendo sempre appunto quando sono in offerta e sono molto validi poi maschera ristrutturante di alchemilla fragole panna questo è il vecchio pack adesso l'hanno rifatto io l'amo questa maschera se avete i capelli sfibrati un profumo buonissimo tra l'altro sa proprio di fragole se avete i capelli sfibrati e sottili magari un po disidratati o stressati da qualche trattamento che avete fatto non so tinte decolorazioni eccetera questa è una delle maschere migliori che ci siano sul mercato secondo me nell'ambito eco bio perché pur essendo eco biologica va a nutrire intensamente i capelli li lascia belli nutriti con un effetto di capello pieno lucido sano veramente un'ottima maschera costa tra i 10 e gli 11 euro non ricordo esattamente il prezzo preciso però ha un prezzo un po più elevato rispetto ai prodotti da supermercato però ne vale assolutamente la pena questa l'avete già vista in più di un mio video dei prodotti finiti l'amo l'adoro va tenuta in posa almeno 10 minuti però ne vale tutta vale tutta l'attesa poi ho voluto provare questi patch occhi di java in cellulosa 100% naturale effetto idratante levigante sono i numeri 1 perché hanno le numerazioni niente male sono rimasta molto colpita da questo prodotto li ho visti sulla pagina instagram di fairy mary in fairy mary 27 ho visto che lei li usava spesso e che le piacevano e ho deciso di provarli e sono veramente molto molto validi sono dei patch rinfrescanti che vanno a levigare e ad idratare il contorno occhi mi sono trovata benissimo ne ho altri da provare che hanno funzioni diverse non vedo l'ora di testarli poi altra maschera per contorno occhi questa è di sephora watermelon eye mask patch si idratanti ma niente di particolare mentre questi di jada mi sono piaciuti molto perché l'effetto era bello idratante quasi illuminante questi di sephora si idratano un pochino più per l'effetto occlusivo ecco del patch che per il prodotto in sé quindi non male però non credo li ricomprerò poi maschere come sapete io faccio tantissime maschere idratanti queste di garniele idrabomb ne ho tre qui ma devo averne altre dentro l'altro sacchetto perché le faccio spessissimo dopo la doccia mi piace mettermi la maschera e aspettare un quarto d'ora 20 minuti e la pelle è subito idratata rimpolpata da un bellissimo effetto io ve le consiglio anche se avete eventi cerimonie o altro perché appunto da un effetto super idratato nutrito e avete la pelle perfetta poi per truccarvi potete anche evitare di mettere la crema proprio perché adesso che fa molto caldo la maschera è chiaramente più rinfrescante rispetto ad applicare la crema e grazie all'effetto occlusivo del tessuto il prodotto penetra più in profondità e la pelle risulta subito più nutrita più idratata non va a essere appiccicosa o altro c'è tantissimo siero all'interno potete anche utilizzarlo come siero viso poi nei giorni successivi ed è un'ottima ottima maschera altro deodorante che mi piace sempre tantissimo che compro e ricompro ma solo quando in offerta perché costicchia prezzo pieno è il borotalco original piace tantissimo il profumo è molto buono in questo caso proprio di borotalco classico si sente ma anche qui non va da interferire con le fragranze che poi applichiamo successivamente ed è molto efficace ottimo ho terminato anche una mini size della crema wonder c cream di vera lab è un'ottima crema alla vitamina c lo adorata ha una texture abbastanza leggera quindi non è pesante non è grassa è veramente si assorbe veramente in fretta mi interessava provare un prodotto alla vitamina c in vista dell'estate e ho terminato questa e poi ho comprato la crema in full size io mi trovo sempre molto bene con il prodotto di vera lab l'unico prodotto che non mi è piaciuto è stato l'olio denso perché era troppo troppo viscoso non mi piaceva l'effetto sulla pelle tutti gli altri prodotti che ho provato li ho adorati tutti quindi se vi dovessi consigliare una crema alla vitamina c lei perché veramente molto molto buona altro prodotto di vera lab per rimanere in casa appunto estetista civica leg booster la crema dedicata al trattamento della cellulite io ho la guainetta da abbinare perché questo è un kit che viene venduto appunto sul sito di vera lab in cui c'è la crema con in abbinamento una guainetta massaggiante di solidea io ho preso la versione ciclista quindi che arriva a mezza a metà coscia e sì mi sono trovata bene non fa i miracoli ragazze la cellulite non va via se se ce l'avete sta lì però aiuta tantissimo contro la sensazione di gambe pesanti affaticate perché aiuta il microcircolo e quindi mi dà un effetto di pelle un po più rassodata un po più tonica ecco però non fa i miracoli quindi promossa anche perché è una bella consistenza si massaggia bene ma non è eccessivamente lenta diciamo ad essere assorbita mi piace non ha una fragranza particolare no non ha una fragranza in particolare però è molto piacevole ecco da spalmare e a me è piaciuta altro prodotto che ho terminato per i capelli è questo siero argan e orange blossom di sien per i capelli è un siero pensato per essere messo prima dell'asciugatura su capelli appunto umidi per capelli secchi allora è un buon prodotto il profumo è molto buono però ho provato di meglio non è un prodotto rivoluzionario che vi dico correte a comprarlo è un prodotto valido per il prezzo che ha soprattutto è competitivo secondo me però se avete i capelli molto secchi molto sfibrati capelli molto lunghi avete bisogno di idratare molto non è proprio adattissimo non è male anche perché non va assolutamente ad ungere ad appesantire i capelli cosa che solitamente invece capita con questo tipo di prodotto che se ne mettete un po troppo poi vi appesantisce i capelli questo non lo fa però non è un prodotto molto nutriente che va a ristrutturare il capello o ad aiutarvi a renderlo più docile ecco al pettine non è male però sinceramente ho provato di meglio ho terminato anche questo struccante della linea ocus pocus di erichi oba per cosma i fai back to reality portion olio struccante questo è un olio classico struccante non mi è piaciuto particolarmente è nickel tested e vegan ok però a me bruciava tantissimo gli occhi l'ho provato sia con lenti addosso sia senza le lenti perché io porto le lenti a contatto e la prova del 9 è quando mi strucco con le lenti a contatto addosso perché a volte mi dimentico di toglierle e comincio a struccarmi e ce le ho ancora addosso ragazze bruciava come l'inferno veramente bruciava tantissimo e no strucca bene perché comunque è un olio quindi scioglie bene tutto il trucco però sugli occhi per me no quindi se devo usare due prodotti diversi uno per il viso uno per gli occhi insomma mi dà un po' fastidio ecco questa cosa quindi preferisco usare un prodotto unico per tutto il viso questo non lo ricomprerò più perché appunto mi bruciava davvero tanto sugli occhi ho terminato anche questa acqua micellare struccante della linea acqua le rose roberts sensitive questa è ottima se avete gli occhi sensibili vi consiglio questa perché non strucca per niente è un prodotto ipo allergenico senza alcol e parabeni studiato apposta contro gli arrossamenti cutanei con estratto di rosa e al 95 per cento di origine naturale questo ce l'ho anche sempre nel kit di lavoro e vado tranquilla vado sicura perché so che è un ottimo prodotto consigliatissima altro balsamo di garnier della linea capelli normali balsamo fortificante io li finisco molto spesso perché appunto li uso per fare co wash poi ho terminato il mio nox rev de miel balsamo balsamo labbra questo è un ottimo balsamo completamente terminato il profumo è buonissimo sa di agrumi di limone molto molto buono e va a nutrire intensamente le labbra ripara dei piccoli taglietti se magari avete le labbra molto screpolate veramente un ottimo prodotto lo trovate in farmacia parafarmacia online si trova un po ovunque ottimo prodotto a un prezzo non proprio bassissimo però il prodotto ne vale vale tutti i soldi che costa veramente un ottimo burro cacao ho terminato questo latte detergente delicato di sien per tutti i tipi di pelle non male è un latte detergente classico con l'erogatore a pump che è molto comodo io lo massaggiavo con le mani sul viso e poi andavo a rimuovere tutto il trucco con un panno di microfibra veramente buono come prodotto fa un po fatica a struccare i prodotti waterproof soprattutto mascara matite se avete se usate molti prodotti waterproof fa un po fatica però per chi magari si trucca poco vuole struccarsi gli occhi a parte quindi vuole un prodotto per il viso un prodotto per gli occhi questo è un ottimo prodotto per il viso per struccare il viso perché non ho mai avuto problemi a struccare fondotinta anche rossetti più che altro ho avuto qualche problema sugli occhi perché un po me li me li annebbiava scusate non mi veniva la parola e comunque ha un buon profumo delicato ma non particolarmente aggressivo invadente e non brucia sugli occhi semplicemente appunto fa un po fatica a struccare i prodotti waterproof ho terminato anche questo prodotto di nivea che è il doccia rinfrescante fresh smoothies con lampone mirtillo latte di mandorla molto buono come prodotto sa tantissimo di mirtillo mi piace tantissimo il profumo è molto morbido sulla pelle fa una bella schiuma non aggredisce ottimo per la detersione quotidiana restiamo in tema di detergenti detergenti corpo e ho finito questo doccia schiuma aromatico della linea tesori d'oriente talasso therapy con acqua delle figi e alghe marine allora questo è un prodotto che io tenevo in doccia per rinfrescarmi quando avevo voglia di un doccia schiuma che sapesse di mare di sale e obiettivamente è molto buono trovo la profumazione unisex più che prettamente da donna piace tantissimo il packaging secondo me è un'ottima idea regalo devo dire che a lungo andare il profumo mi ha un po stufata mi ha un po stancata non credo che lo ricomprerò subito però è sicuramente un buon doccia schiuma con un profumo bello fresco e in qualche modo energizzante la qualità di questi prodotti è sempre molto valida mi piace molto la consistenza e la cremosità di questi bagno schiuma che non è eccessivamente densa ecco come come consistenza fa una bella schiuma e sono molto morbidi sulla pelle ho terminato anche questo balsamo della splendor balsamo districante con argilla naturale del strato di limone per capelli da normali a grassi è un ottimo balsamo per fare co wash se avete i capelli grassi li lascia puliti belli voluminosi lucidi e districati perché districa benissimo io amo questa linea di splendor l'ho scoperta per caso grazie a una ragazza su instagram che ha il profilo le cose di chiara mi sembra che si chiami ogni volta faccio confusione comunque chiara che l'ho fatto scoprire e non l'ho più abbandonato è un ottimo ottimo balsamo ho terminato anche di erbolario questo bagno schiuma shower gel tra i ciliegi mi piace tantissimo la profumazione è una droga è veramente buona molto fresca ma fiorita ho il possiedo il profumo di questa linea è un profumo buonissimo mi piace tantissimo anche la qualità di questi bagno schiuma perché hanno un costo più alto rispetto ai prodotti da supermercato o da profumeria classici però ne valgono la pena assolutamente sono molto molto validi e sono anche molto curati nel packaging nella profumazione insomma sono degli ottimi detergenti e sono anche molto graditi come idea regalo altra maschera di ultra dolce garnier la linea al miele ricostituente per capelli fragili e danneggiati questa non mi è piaciuta più di tanto è una maschera come tante altre fa più da balsamo che da maschera districa molto bene e idrata però non nutre non ricostituisce non è una maschera rivoluzionaria ecco la migliore secondo me di questa linea resta quella alla mandorla altro balsamo della fructis puliti e brillanti come vedete consumo veramente questi questi prodotti poi ho terminato questa mist di nao bay detox unpolluted broom energizzante quindi questa mist energizzante detox ha un buon profumo tra l'altro il tappo bellissimo perché è in legno e questa l'ho vista nel canale di chiaroscuro makeup claudia e devo dire che mi sono trovata bene è una mist appunto energizzante idratante con aloe vera e va diciamo utilizzata come tonico per subito dopo la detersione per andare a restituire un po di idratazione alla pelle mi è piaciuta veramente molto l'ho trovata un buon prodotto è tra l'altro un prodotto ecocert e mi è piaciuto tantissimo la trovate da tigota scrub esfoliante con mango biologico e zucchero della organic shop questo è un ottimo ottimo scrub il profumo è molto buono sa proprio di frutta un profumo fruttato è uno scrub piuttosto intenso quindi se avete la pelle molto delicata non ve lo consiglio però se avete bisogno invece di uno scrub bello intenso per andare a eliminare tutte le cellule morte o a magari evitare di avere qualche problema con peli incarniti e quant'altro soprattutto adesso che è estate questi scrub sono davvero ottimi mi è piaciuto tantissimo anche quello al cacao e quello al caffè che hanno dei profumi buonissimi questo è più estivo ecco la profumazione al mango è un po più fruttato dolce ho terminato questo trattamento urto sette giorni di ampolle con acido ialuronico di questa linea for the ialuron di Sien che è uscita diversi mesi fa da Lidl allora mi sono piaciute molto soprattutto miscelate alle creme perché andavano a dare quella quota idrica in più alla crema che magari la crema non riusciva a dare la mia pelle senza essere pesanti unte senza andare a modificare la texture della crema le usate anche da sole quindi prima della crema modissiero e mi sono piaciute molto vedevo un bel effetto rimpolpante purtroppo attualmente non sono più in mente da Lidl però se riproporranno la linea sicuramente le ricomprerò altro prodotto di Nivea natural good doccia olio in gel con fiore di cotone e arricchito con olio bio questo è un buon prodotto il profumo è molto buono sa proprio di di fiori di cotone è un profumo molto delicato che sa di pulito però come tipo di formula preferisco quella che vi ho fatto vedere prima quindi gli fresh smoothies perché questo era un po' troppo nutriente sulla mia pelle mi dava un effetto un po' unto poi alla fine della doccia e non mi piaceva proprio tantissimo però perché la pelle magari molto molto secca oppure che per chi ha problemi di irritazioni dovute a detergenti troppo aggressivi secondo me questo è un buon prodotto perché appunto è molto delicato e addolcente visto che è arricchito con un olio altra maschera di sephora eye mask al melograno anche in questo caso nulla di che le avevo comprate un po' tutte insieme perché c'era una promozione le ho utilizzate man mano e devo dire che sono un po' tutte uguali nel senso che non vedo notevoli differenze tra una e l'altra vanno a idratare un pochino e a rendere il contorno occhi un po' più liscio però insomma non hanno un effetto particolare ecco non cambia molto tra una e l'altra altro bagnoschiuma di erbolario buche d'oro io ho comprato il quando è uscito il profumo e il bagnoschiuma questo ha un profumo buonissimo veramente buonissimo tra l'altro mi piace tantissimo il flacone quindi non solo butterò questo perché è davvero carino mi piacerebbe tenerlo però purtroppo credo che le scritte siano impresse e che non ci sia l'etichetta da poter togliere però insomma vedrò se buttarlo tenerlo molto molto buono qualità del bagnoschiuma erbolario è ottima il profumo buonissimo quindi vi consiglio di provarlo se vi piace la profumazione è passata una moto ok spero non si sia sentito troppo poi ho finito questo prodotto l'ho finito mesi fa ma dovevo riprendermi dal dallo shock di averlo utilizzato tropical summer mousse to oil shower foam di Sien è stato un trauma doverla portare a termine una mousse stranissima che diventava un olio denso appiccicoso corposo non riuscivo a farci nulla quindi io la volevo utilizzare come mousse per la depilazione come quella di dove però non non sono riuscita mi faceva tutto un impasto sulla pelle non non riuscivo a capire come utilizzarla al meglio l'ho terminata mi sono lavata le mani alla fine perché non riuscivo più ad usarla su tutto il corpo l'ho finita basta non ricomprerò mai più un prodotto di questo tipo poi prodotto skin care vera lab luce liquida la vedete spessissimo nei miei video prodotti finiti è una delle lozioni all'acido salicilico migliori che ci siano in commercio se avete brufolini punti neri pelle spessita pelle spenta questo è un ottimo prodotto attenzione perché è un prodotto molto attivo quindi se avete la pelle reattiva sensibile soggetta a dermatiti e altre problematiche non ve la consiglio però per chi ha l'acne o per chi ha problemi appunto legati magari a brufoli situazioni ormonali ecco cose così e magari a tante macchie oppure appunto a molti brufoli è un'ottima lozione perché fa guarire i brufoli più velocemente e quindi poi evita che rimanga la macchia insomma è davvero un ottimo prodotto e soprattutto in questo periodo dell'anno d'estate è un ottimo prodotto anche per chi ha una produzione di sebo eccessiva perché va a sebo regolarizzare la pelle quindi davvero ottimo prodotto molto molto valido altre dodorante di dove al talco l'ho amato infatti l'ho usato più di ne ho usata più di una confezione della linea sea and professional ho utilizzato questo balsamo alla cheratina ho utilizzato anche la maschera in abbinamento e devo dire che mi sono piaciuti molto l'inci non è male per essere un prodotto della larga distribuzione economico da un bel effetto di capello idratato nutrito e districato soprattutto se lo lasciate in posa è un ottimo prodotto la maschera è ancora più intensa come effetto mi piaceva molto appunto utilizzarlo mentre ero in doccia in posa almeno due tre minuti mentre mi lavavo il corpo per poi sciacquarlo è veramente un ottimo prodotto se lo trovate da da lidl prendetelo ho terminato anche questa crema della linea argilla rosa e pompelmo crema opacizzante viso di ledriadi che devo dire non mi è dispiaciuta avevo ricevuto qualche commento in cui qualcuno mi avvisava del fatto che a lei non era piaciuta questa crema perché era una era una signora mi ha detto guarda io non mi sono trovata bene spero che tu ti troverai troverai bene ma a me non è piaciuta per niente e devo dire che io non mi sono trovata male ecco forse è una crema un po troppo ricca per le pelli molto molto grasse però per chi come me la pelle mista quindi una zona t grassa e il resto del viso normale diciamo tendenzialmente secco non è fatto male questa crema ecco ha una texture comunque cremosa non in gel come le classiche creme dedicate alla pelle grassa però sinceramente non mi sono trovata male prossimo prodotto makeup ho finito l'all nighter fissante di urban decay versione piccola avevo questa mini mini taglia perché l'ultima volta che ero andata a comprarlo non c'era più il flacone grande ora l'ho ricomprato in taglia enorme ho preso la taglia più grande che c'era perché in questo periodo dell'anno il fissante mi sta salvando la vita e anche perché spesso e volentieri lo uso anche sulle clienti quindi mi serve una confezione grande ottimo fissante ha un po d'alcol quindi se avete la pelle molto sensibile reattiva secca non ve lo consiglio però se avete la pelle grassa mista o avete bisogno che il trucco rimanga indelebile è un ottimo prodotto dolci labbra di alchemilla al sapore di cappuccino mi è piaciuto tantissimo veramente un ottimo prodotto farlo di caffè lo amo tra l'altro le dolci labbra sono tra i miei burro cacao burri cacao preferiti della vita sono molto molto idratanti nutrienti vanno veramente a nutrire le labbra e adesso li sto utilizzando anche come trattamento notturno e devo dire che mi piacciono tantissimo ho terminato della linea di sephora questa polvere esfoliante con acido salicilico e perle di jojoba mi è piaciuta molto si deve emulsionare con l'acqua diventa una specie di mousse esfoliante che poi si massaggia sul viso fa uno scrub enzimatico e meccanico allo stesso tempo ottimo prodotto forse un pelino aggressivo perché queste perle di jojoba sono comunque un po non dico grosse perché sono comunque piccoline però sono un po aggressive sulla pelle quindi se avete la pelle molto sensibile ve lo sconsiglio però se avete una pelle magari spessita o che tende a spessirsi è un ottimo prodotto make up ho terminato questo fondotinta compatto di max factor della linea face finiti compact foundation il mio era il numero 33 crystal beige completamente finito questo lo tenevo in borsa perché ha un packaging bellissimo si apre c'è lo specchio qua c'era il fondotinta e poi c'è il vano per la spugnetta e si chiude e si butta in borsa purtroppo ormai ero alla fine ne mancava mancava il bordino e in borsa si è rotto quindi lo vedete completamente libero per questo però l'avevo quasi terminato quindi posso inserirlo tranquillamente nei video determinati ottimo fondotinta compatto molto coprente ma non necessariamente polveroso mi è piaciuto credo che questa fosse la vecchia linea face finiti adesso non credo che si trovino più però insomma devo controllare però a me questo fondotinta era piaciuto veramente veramente molto trovo che max factor sia una un brand molto sottovalutato invece è uno dei brand che ha fatto la storia del make up se volete poi ne parleremo in un video magari ho terminato anche questa crema di sien sun crema opacizzante solare spf 30 l'ho utilizzata per quando vado a camminare la mattina e devo dire che non era male anche se non era veramente opacizzante ovvero comunque una patina lucida rimaneva infatti l'ho provata più di una volta sotto al trucco e non mi piaceva perché era troppo unta per essere utilizzata come base trucco però se avete bisogno di un solare viso diciamo non eccessivamente unto secondo me non è male adesso hanno fatto uscire la nuova linea che non è opacizzante però non so comunque testando qualcosa della linea dedicata agli sportivi proprio per per chi ha bisogno di una protezione solare mentre fa sport e non mi sto trovando male vi mostro gli ultimi prodotti skin care e poi passiamo ai profumi allora codali crema con tornocchi questa era una sample size che io ho comprato all'interno di un kit molto buono si chiama premier crew le cram yo quindi crema con tornocchi non male abbastanza idratante nutriente la utilizzavo più per la sera che per il giorno adatta a tutti i tipi di pelle mi sono trovata molto bene devo dire che mi ha incuriosito e se mi capiterà comprerò la versione grande perché l'ho trovata davvero un'ottima crema garnier skin active all'acqua di rose crema limitiva idratante 24 ore questa l'ho comprata per necessità perché ero rimasta senza crema ero al supermercato detto ok scegliamo una crema da notte per per questa necessità e ho scelto questa e devo dire che mi sono trovata bene è una crema classica con una classica consistenza da crema giorno ma anche notte una crema 24 ore io l'ho utilizzata per la sera perché per il giorno è troppo idratante per me lenitiva quindi andava a lenire un po i rossori però ecco non non è una crema particolarmente efficace contro i rossori ecco non è particolarmente lenitiva è una buona crema nulla da dire mi sono trovata bene però ecco non è un prodotto particolarmente interessante ecco una crema classica ho finito due sieri di yves rocher questo idra vegetal che mi ha stupita tantissimo pensavo fosse un siero così un po un po inutile invece è veramente molto buono flacone di vetro è un siero idratante l'ho utilizzato sotto il solare la mattina o anche prima della della crema poi la sera ed è molto molto idratante mi è piaciuto tantissimo non andava ad appesantire o a ungere e dava un effetto bello rimpolpante così come ho terminato con grandissima soddisfazione questo siero sempre della linea elixir genus è un siero che ha una doppia azione sia riparatrice sia anti inquinamento molto molto valido profumo buonissimo tra l'altro un siero dalla consistenza non troppo acquosa quindi era abbastanza gelificata è molto piacevole fresco si assorbiva subito davvero un ottimo prodotto mi è piaciuto davvero molto termino con sto video facendovi vedere i tre profumi che ho finito nell'ultimo periodo il primo è questo il white tea di elisabeth arden ho tenuto anche la scatola perché è molto carina secondo me si presenta in questo modo bellissimo packaging l'ho preso su notino ad un prezzo molto modico è un profumo buonissimo che sa di tè però sa di tè bianco quindi è un tè molto delicato molto un profumo molto suave che ricordo tantissimo i profumi freschi agrumati perché comunque siamo su quel su quel genere lì però è molto delicato non invadente non invasivo l'ho utilizzato sempre dopo la doccia per rinfrescarmi a volte sulle lenzuola per rinfrescare le lenzuola e dare quel sentore di pulito è veramente un ottimo profumo vi consiglio di provarlo se vi piace il genere soprattutto se vi piacciono magari i profumi al tè verde ma ritenete quel tipo di profumo magari un po troppo aggressivo un po troppo forte questa è un'ottima alternativa molto molto buono tra l'altro fate anche una bella figura nel momento in cui volete regalarlo perché è bellissimo anche il flaconcino si presenta bene la confezione è veramente un ottimo profumo devo dire che mi piacciono davvero molto i profumi di elisabeth arden ultimamente ne ho provati diversi e sono veramente ottimi secondo me sia come rapporto qualità quantità prezzo sia come persistenza sia come particolarità delle fragranze davvero sono degli ottimi prodotti ho terminato anche il mio twilly di hermes l'ho già ricomprato ma ho dedicato a questo profumo una review su instagram quindi vi lascio giù nell'info box come sempre il link diretto alla mia pagina instagram dove troverete il post in cui ve l'ho recensito questo è un ottimo profumo è un profumo con lo zenzero la tuberosa un profumo fiorito energizzante fresco un profumo che sa di libertà veramente un profumo buonissimo ottimo ottimo tra l'altro anche dal punto di vista della della persistenza è molto persistente buonissimo lo adoro lo amo e fatti l'ho già ricomprato e l'ultimo profumo che ho terminato è questa eau de toilette giglio di mare di fremond allora per quanto riguarda questa fragranza è una fragranza molto particolare che mi ha lasciata un po perplessa la fragranza è molto buona sa di è un fiorito salato molto particolare sa proprio di quell'aria di mare che si trova che si sente quando attraversate una pineta prima di arrivare al mare oppure trovate un campo di fiori o trovate non so delle piante in fiore che hanno come habitat l'habitat salmastro e quindi c'è quella sensazione di profumo dolce ma allo stesso tempo salato fiorito ma allo stesso tempo salato è molto particolare l'ho utilizzato più che altro mi dispiaciuta la di la persistenza perché è molto poco persistente quindi l'ho utilizzato per rinfrescarmi dopo la doccia però dal punto di vista della fragranza e questa è una fragranza molto particolare la trovate da tigota vi consiglio di sentirla se vi piace il genere ecco l'unica cosa la la persistenza non era un granché però la fragranza era davvero molto molto particolare infatti l'ho terminata quasi subito questo era un 30 ml mi è piaciuto però non lo ricomprerò più per via della scarsa persistenza bene ragazzi questo era tutto io spero che il video vi sia piaciuto vi sia stato in qualche modo utile o anche solo di compagnia fatemi sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti cosa ne pensate se vi ho incuriosito in merito a qualcosa e come sempre vi chiedo se vi va di lasciare un like di supporto di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima ciao